22 storie e una città. Dopo anni di viaggi e un libro, New York e una finestra senza tende, Paolo Cognetti ha presentato in una conversazione con la torinese Mac Musa New York Stories, un'antologia che racconta i luoghi e le abitudini e i cambiamenti della città nel corso del Novecento. L'attenzione principale però è su chi la abita. New York non è la città di chi c'è nato, ma di chi l'ha desiderata ha dovuto combattere per farne parte, scrive Fitzgerald nel racconto che apre la raccolta. Con lui ci sono Capoti, De Lillo, Mor, tradotto per la prima volta nel nostro paese, e gli italiani Oriana Fallaci, Mario Maffi e Mario Soldati, arrivato in America poco prima del crollo di Wall Street. A emergere è lo spirito della metropoli. Non so se le città abbiano un'anima che tu riesci a percepire e a respirare quando ci vai, per molte città credo non sia così, almeno io non me ne accorgo. Nei racconti ci sono tutti gli aspetti di una città dalle mille contraddizioni, ricchezze, povertà, disagio e benessere, turismo e vita frenetica. Una metropoli in cui i quartieri cambiano velocemente, al punto che Cognetti è preoccupato per Reducca, Brooklyn, il suo posto a New York, che presto potrebbe essere invasa da hipster e turisti, come già successo a Williamsburg e Bushwick. Cognetti manca dalla città da un anno e mezzo e afferma quasi con malinconia che molte cose a cui era legato non ci saranno più, perché New York è così, è capace di affascinarti e farti tornare da lei a prescindere da tutto.